Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge 88 che modifica la legge regionale 1 del 2018 sulla gestione dei rifiuti. Il provvedimento introduce un obiettivo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 kg anno ad abitante da raggiungere entro il 2025. Fa eccezione la città di Torino il cui obiettivo pari a un rifiuto indifferenziato non superiore a 159 kg ad abitante è fissato entro il 2024. Per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è individuato un unico ambito territoriale ottimale regionale articolato in subambiti di area vasta la cui governance è esercitata da consorsi di comuni denominati consorsi di area vasta. Viene eliminata l'obbligatorietà di accorpamento dei consorsi esistenti nel medesimo territorio provinciale. Si prevede poi una modifica al sistema di applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti indifferenziati. In particolare è definita una franchigia per i consorsi con elevata presenza di comuni turistici nei quali la popolazione effettivamente presente risulta essere superiore a quella residente. Relatore di maggioranza del provvedimento il consigliere della Lega Matteo Gagliasso. Un DDL importante a livello di rifiuti ma soprattutto a livello di concentrazione con il territorio. Sicuramente abbiamo dato una possibilità a questi consorsi specialmente delle aree più vaste di poter finalmente procedere all'attuazione di questa legge. Relatori per l'opposizione Giorgio Bertola, Movimento 4 Ottobre, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, Sean Sacco, Movimento 5 Stelle, Daniele Valle, Partito Democratico. Un'occasione persa per approvare una legge che recepisca anche altre novità. Nell'ultimo anno, anno e mezzo, si è andati avanti sulla gestione dei rifiuti specialmente con la questione legata all'end of waste, quindi alla fine della qualifica di rifiuto. Al termine della discussione l'Aula ha anche approvato all'unanimità un ordine del giorno collegato. Primo firmatario Carlo Riva Vercellotti, Forza Italia, ma sottoscritto oltre che da Paolo Ruzzola e Alessandra Abiletta, Forza Italia, anche da alcuni consiglieri delle opposizioni, Sean Sacco, Sara Di Sabato, Ivano Martinetti, Giorgio Bertola, per la tutela della risorsa idrica. L'atto di indirizzo impegna la Giunta a definire entro 120 giorni dell'approvazione del disegno di legge 88 i criteri per l'individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.